In tanti anni ho scritto tantissimi libri, saggi, ho scritto testi tecnici, codici, perché credo che poi dietro alla vita di un avvocato ci siano anche delle testimonianze, secondo me i libri sono sicuramente una di queste. Bene, io ho scritto, mi sono permesso di scrivere anche un romanzo, L'ultimo abbraccio, di Arcos Editore, prefazione come sempre di Maurizio De Giovanni, il grande Maurizio De Giovanni. Bene, questo è stato un romanzo particolarmente sofferto, ci ho messo anni per scriverlo. Sappiate che io scrivo con carta e penna, non amo il computer perché mi deconcentra e dopo 15 minuti inizio a lacrimare. Ci ho messo anni, sì, perché molte volte l'avevo mollato, non pensavo di farcela, perché scrivere un romanzo per un saggista come me è come scalare una montagna con l'infradito ai piedi. È un libro che dimostra che i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. Parlo di adozioni, parlo di amori meravigliosi e di internet, cioè gli orfanotrofi dell'Ucraina ai tempi del scoppio del reattore nucleare di Chernobyl. La storia di Dmitry Wozniak, un polacco trameantato in Ucraina e cinque orfani che ce la faranno, perché nella vita non bisogna mai dire che è finita fino a quando non finisce la vita. È un inno all'ottimismo, alla resilienza, al fatto che anche se si nasce orfani c'è sempre una speranza di potercela fare. Sullo sfondo una grande quercia dove Dmitry e cinque ragazzi si riuniscono per parlare del futuro e di come dare un senso alla propria vita. Un grande libro, a mio parere, non so se l'ho scritto da scrittore, ma l'ho scritto come come avvocato, perché mi sono occupato tante volte di adozioni internazionali, di affidamenti e sono quindi testimone di tutto quello che è accaduto nel mio studio, le speranze dei genitori adottivi e quanto è bello adottare, quanto è importante salvare un bambino da orfanotrofio, da un istituto. Come si può essere genitori adottivi e amare i figli più dei genitori biologici? Perché, vedete, essere genitori non significa procreare o mettere al mondo i figli, significa amare i figli e prendersene cura. Questo è un libro che potete trovare dal vostro librario, ordinarlo lì o su Amazon e in poche ore vi arriverà. Un libro drammatico, bello, pieno di speranza ed è un libro che parla di un'umanità che spesso noi non conosciamo. Alla prossima.